Allora io sono Vito, chiaramente qui interpreto Iciglio Simonazzi, l'oggetto più ordinato su Amazon. Oggi riduci tutto in spuma, anche il vitello tonato, beh ma perché? In questo spettacolo che si chiama La Felicità è un pacco, c'è la storia di questo povero disgraziato con questo negozio di elettrodomesti dove non va più nessuno perché tutti ormai comprano online. Tra una settimana, beh ma a me mi vuole subito, mi vuole adesso, ti vuole adesso? L'aspirabriciole ti vuole adesso subito? La famiglia rovinata, la moglie investita su un marcipiente da un rider che doveva correre per consegnare Fusilli in bianco, ammassano la gente per consegnare fusilli in bianco. In qualche modo deve cercare di sopravvivere, allora cosa fa? Diventa un Don Quixote con la lancia, la lancia del politicamente scorretto, va a rubare tutti i pacchi che trova in giro nel condominio Farazzie, ruba il cibo ai rider, gli ruba le borse, insomma cerca di sopravvivere. Lo spettacolo è molto divertente e vi aspetto tutti quanti a teatro. Ci conto. Iciglio Simonazzi, La Felicità è un pacco.